Ben ritrovati, buon lunedì, come ogni settimana andiamo a fare il punto della situazione del settore crypto partendo dal mercato, poi andando a vedere le notizie più importanti e facendo un po' di analisi anche questa settimana la schermata coin360.com dove solitamente inizio si presenta molto molto bene con bitcoin che fa un più 1% 1.23% ma soprattutto la seconda più capitalizzata che è ethereum con ether fa un più 19% negli ultimi 7 giorni rompendo il suo all time high più volte rompendo la barriera dei 4.000 dollari e portandosi su una capitalizzazione che non aveva mai visto ovviamente andremo a vedere tutte queste cose anche comparando l'asset ethereum con tutti gli altri asset generali, tradizionali anche le banche piuttosto che aziende, insomma vediamo metalli preziosi, vediamo come sta scalando la classifica il ranking degli asset più preziosi al mondo, poi parleremo di dodge perché è successo ovviamente un evento importante sabato scorso con ilon musk, una grande aspettativa, rialzo importante di cardano, accenni a matic, crypto.com, erond insomma questa volta, questo lunedì ho veramente tanti tanti argomenti, cercherò di coprirli al meglio che posso essendo il più veloce possibile. Capitalizzazione di mercato che raggiunge i 2 trillion e mezzo, quindi 2500 miliardi di dollari festeggiavamo solo quest'anno il superamento, inizio dell'anno, il superamento dei 1000 miliardi e adesso siamo a 2500 miliardi con volumi importanti perché ogni giorno, solo nelle ultime 24 ore vengono scambiati 232 miliardi di dollari, la dominanza di bitcoin continua ad abbassarsi da quando abbiamo rotto il 50% e ha iniziato a salire Ether con diverse altre monete siamo entrati in una fase di alt season, adesso siamo proprio nel pieno di un alt season vedremo se è una fase temporanea, poi tornerà a salire bitcoin, oppure è una fase che porterà l'alt season e poi una depressione su tutto il mercato, questo ancora non è facile saperlo, ancora veramente difficile da capire comunque Ether sale al 19% di dominance portandosi veramente su un peso importante è salito anche il gas weight, quindi il costo per le transazioni su Ethereum stesso questo perché, come vedremo, si sono sviluppate una serie di meccaniche speculative su alcuni token uno in particolare che hanno rialzato nuovamente le commissioni poi c'è stato anche il lancio della versione 3 di Uniswap, di cui ho parlato nell'ultimo video, quello di venerdì la moneta che è salita di più negli ultimi 7 giorni è una di quelle che non ti aspetti un token, questo è chiamato Shiba Inu con ticker SHIB e questo paradossalmente è stato uno dei motivi per cui il gas weight è tornato a salire infatti gli scambi di questo token ERC20, quindi su blockchain Ethereum, sono stati scambi dai volumi pazzeschi portando nuovamente un traffico inaspettato sull'exchange centralizzato più utilizzato al momento che è appunto Uniswap e su Ethereum stesso la seconda moneta che sale di più è Telcoin, 258% in una settimana Bitcoin Diamond, 250% quando iniziano a salire queste monete qui siamo in piena euforia questi sono segnali proprio quando vediamo che queste sono le monete che sono salite di più in questa settimana Shiba Inu, Telcoin, adesso non conosco bene Tel, magari ha anche la sua ragione d'essere ma Bitcoin Diamond so di cosa sto parlando, è un 250% su una moneta che dovrebbe quantomeno se si utilizzasse solo un razziocinio dovrebbe sparire invece c'è l'euforia, c'è la fomo, c'è l'avidità dell'uomo che continua a rimanere questa è la ragione per cui anche in tempi non sospetti come ad esempio uno o due anni fa continuamente e spesso ho detto tornerà, tornerà forte un alt season torneranno percentuali di rialzo settimanali vicino al 1000% e sarà più forte di prima, ci sarà un bull market ancora più grande di prima qualcuno mi dava per pazzo, ad oggi penso siamo tutti abituati invece a questa nuova crescita Tiron Classic fa 159%, Quantum fa un 71%, EOS 56%, Lisk 56%, Bitcoin Cash anche sale 47% Litecoin quindi un rialzo dei fork di Bitcoin in questo caso Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond che non ho idea del perché sia salito 249% credo per motivi quantomeno speculativi, di ragione unicamente speculativa e questo è il motivo per cui certe cose salgono è perché l'avidità dell'uomo e la voglia di far soldi in poco tempo e in modo semplice, apparentemente semplice, non morirà mai è difficile da togliere, per questo motivo questi cicli si ripetono e vanno anche a formarsi poi delle bolle analizzerò magari in dei video in cui faremo un'analisi un po' più approfondita questo è un video generale dove vediamo quello che è successo una settimana nella settimana, le notizie più importanti è l'analisi generica entriamo nella finestra Bitcoin settimana di lateralizzazione, una settimana fa Bitcoin valeva 58.500 dollari praticamente adesso 57.800 dollari quindi non è successo niente sulla più capitalizzata, sono salite le altre nell'ultimo mese un lieve calo, un mese fa valeva 60.600 dollari tre mesi fa Bitcoin valeva 44.000 dollari quindi adesso la finestra a tre mesi che è molto importante ci mantiene una visuale di rialzo per Bitcoin, un trend a rialzo ma comincia a far vedere che già entravamo in una fascia importante tre mesi fa se invece torniamo a un anno fa la crescita è palese 8.500 dollari l'11 maggio 2020 proprio per questo motivo ormai diverso tempo fa ho disegnato queste due fasce queste due linee di prezzo una a 50.000 dollari l'altra a 62.000 dollari dicendovi che Bitcoin sarebbe probabilmente entrato in questo range di prezzo per andare un po' di tempo a lateralizzare se lo avesse fatto senza crolli, senza cali consistenti avremmo visto magari un rialzo e uno scaricare anche sulle altre monete e così sta succedendo quantomeno quello che è successo nelle ultime settimane questo ai 50.000 a questo punto è un supporto credo lo abbia già disegnato in verde settimana scorsa magari non è rimasto nella cache del browser la resistenza verso l'alto rimane quella 60.000, 62.000 dollari cambia poco Bitcoin è qui dentro, sta fortificando la sua posizione sta consolidando si trova ancora una volta sopra la media mobile a 50 quindi la media del prezzo degli ultimi 50 giorni mentre la media del prezzo degli ultimi 200 giorni continua a salire alzando quello che è un possibile supporto quantomeno da analisi tecnica quindi diciamo che ad oggi vedere Bitcoin sotto i 38.000 dollari sarebbe molto molto difficile dovrebbe arrivare una catastrofe per qualche ragione magari legata a non so un attacco molto forte regolamentativo oppure un aspetto tecnico in ogni caso teniamo ben d'occhio questa fascia un segnale negativo quindi bearish sarebbe la rottura del supporto a 50.000 dollari e in quel caso Bitcoin potrebbe scendere fino a 42.000 se dovesse succedere qualcosa di negativo mentre invece per ripartire e magari riprendere Dominance quindi riaccumulare quanto è stato distribuito soprattutto dai nuovi arrivati sulle piccole monete quelle meno capitalizzate dovrebbe rompere la resistenza a 62.000 dollari anche dall'RSI vediamo che si trova in una situazione abbastanza laterale un segnale molto bullish lo dà invece la Shrait che torna ai suoi massimi storici torna ai suoi massimi in realtà raggiunge proprio l'all time high dopo il calo che c'era stato quindi l'analisi che abbiamo fatto su quel periodo in cui c'è stata l'alluvione in Cina quindi momentaneamente un calo molto importante della potenza di calcolo per il mining su Bitcoin è subito una ripresa visto anche il periodo in cui il mining è profittevole il rialzo del prezzo è stato molto veloce adesso il business si fa interessante e in molti sono stati incentivati subito ad apportare nuovamente energia e lavoro su questa rete quindi è tornato ai massimi questo fortifica tutto il settore perché Bitcoin è un po' il pilastro che tiene tutta l'industria ci fa capire di come i miners siano bullish ancora per il periodo che arriverà in quanto stanno investendo stanno impiegando sempre più energie e costi per la produzione indice paura e avidità fear and greed torna a 72 quindi torna a salire siamo in una fase di avidità qui è legato a Bitcoin come vi ho già detto molto importante vedere che comunque su un livello così alto non siamo a livelli di avidità estrema come invece fu magari superando i 40.000 e i 50.000 dollari dove questo indicatore era arrivato a valori superiori ai 90 nella giornata ieri domenica ho fatto dei post sia su Twitter che su Facebook che su Instagram ho deciso di postare questa immagine qui scrivendo questa frase virgolettato Tiziano che ne pensi di? quando arriva una fase come questa arrivano tantissime nuove persone persone che magari non hanno approfondito questo settore quando era il momento di farlo con la calma ma arrivano in piena fomo che cosa vuol dire fomo? vuol dire paura di rimanere fuori da un qualcosa da una crescita, da un guadagno quindi fear of missing out di perdersi il treno vedono magari scritto da tutte le parti che tutti stanno diventando ricchi e vogliono diventare ricchi anche loro non voglio perdersi l'occasione l'ho detto per anni quindi adesso lo posso dire proprio tranquillamente il periodo migliore era uno, due anni fa per studiare e pian piano farsi il proprio portafoglio perché sarebbe arrivata questa fase farlo in questo momento è la cosa più difficile in assoluto non è però tardi ma si corre molto più rischio si corre più rischio perché c'è un'attrattiva fortissima verso progetti che non hanno le basi per darci una stabilità e cambiarci veramente la vita in futuro ma probabilmente portano delle occasioni altamente speculative, lucrative che se fatte in un certo modo potrebbero anche portarci un guadagno molto alto ma un rischio enorme quindi il rapporto risk reward è di quelli che non mi piace di questo si stanno presentando diverse monete diversi progetti una ve l'ho appena fatta a vedere una moneta che fa l'800% senza nessun senso senza avere un apporto di valore reale e non senza portare un vero valore è sinonimo proprio di un hype ritrovata vi ho descritto un po' il ciclo di come funziona a fine anno si sono avvicinate diverse entità importanti come Paypal come Grayscale MicroStrategy la stessa Tesla inizio anno che compra un miliardo e mezzo quello è stato un po' l'apice del tutto ancora prima grandi investitori come Paul Tutor Jones e grandi fondi di investimento che annunciavano l'acquisto di Bitcoin e l'apertura per servizi finanziari legati appunto a Bitcoin e a crypto bene tutta questa ondata avrebbe portato un interesse prima mediatico quindi ne avrebbero parlato giornali, telegiornali la stampa in generale e poi tutto l'arrivo dei retail che sarebbero tornati nuovamente su questo settore con un effetto un po' in delay cioè un po' in ritardo sarebbero arrivati un po' tutti c'è stata l'esplosione degli NFT adesso stiamo vedendo l'esplosione della DeFi subito dopo l'esplosione della DeFi la cosa va sempre più veloce e neanche se ha tempo di avere non so quel 70% 80% di ritorno annuale si vuole fare l'800% in una settimana comprando una moneta con il cane disegnato sopra che così ci fa diventare ricchi subito questo è un effetto già visto in passato quello che sta succedendo su alcune monete ad esempio voglio farvi un esempio nel 2017-2018 successe monete come XRP, Ripple o NEM che fecero delle crescite importantissime è una cosa che ho già visto non voglio dire che è tutto male non viene tutto per far danno però bisogna capire la situazione in cui si vive quello che stiamo vivendo e appunto ho deciso di dedicare questa settimana qui a una serie di analisi quindi l'ho chiamata la settimana dell'AIP l'avrei potuta chiamare anche la settimana della FOMO dove in diversi video farò un'analisi specifica su diversi progetti cercando di essere il più oggettivi possibili quindi vi prenderò delle monete e di quelle che vengono più chieste di quelle che stanno andando più in AIP quindi non parliamo di progetti diciamo fatemelo dire seri, importanti con un fondamentale che cambierà il mondo realmente guarda Ethereum guarda Erond Cardano Polkadot non parlo di questi ma quelli che adesso stanno muovendo i volumi le masse perché non posso ignorare il fatto che i volumi come vedremo su una moneta come Shiba Shiba Inu sono stati impressionanti e quindi è un fenomeno che va analizzato e va spiegato quindi ci saranno tre video uno dopo l'altro questa settimana per la settimana dell'AIP rimanete su questo canale se non volete perdervi queste novità qui appunto è però la settimana che viene definita che definisce l'alt season tramite Ethereum perché Ether fa il suo all time high Ether una volta era l'alt coin per eccellenza la moneta alternativa per eccellenza qualcuno oggi giustamente dice non si può più definire Ethereum un alt coin sono d'accordo è una cosa che viene un pochino dal passato comunque Ethereum Ether rompe i 4.000 dollari lo abbiamo visto adesso superiore addirittura ai 4.100 dollari con una crescita anch'esso pazzesca se non avessimo avuto monetine come Doge che fanno dei risultati ancora più eclatanti questo sarebbe stata una crescita veramente che avrebbe fatto impazzire tutti quanti e il mondo intero perché è arrivata questa cosa perché ci sono state una serie di avvicinamenti importanti mentre i retail i piccoli investitori stanno mettendo i loro 50 100 dollari sulle monete che hanno non so 10 zeri dopo la virgola i grandi istituzionali stanno prima hanno accumulato tanti bitcoin e in questa fase stanno accumulando Ether stanno accumulando Ether per diversi motivi ad esempio abbiamo avuto la notizia che c'è la banca europea banca investimenti europea che annuncia che verranno emessi per il valore i 120 milioni di dollari delle obbligazioni su rete Ethereum questa è una cosa importantissima perché praticamente va a fermare la rete come qualcosa ormai di consolidato è un po' come quando ci fu il passaggio dal dire che internet era un qualcosa dove nascevano solo truffe dove nasceva niente di buono che non avrebbe avuto futuro al fare i primi siti internet istituzionali ecco nel momento in cui istituzioni come queste vanno a creare le loro infrastrutture i loro servizi finanziari sulla rete Ethereum stanno praticamente etichettando la cosa come un qualcosa ormai di accettato e questo è importantissimo perché da lì poi nascono tutte altre tutta un'altra serie di strumenti tra l'altro questa è in collaborazione con Goldman Sachs che è una di quelle banche che ha parlato spesso male del settore cripta e adesso ci costruisce sopra come un po' tutti i servizi bancari attenzione perché quest'anno vedremo uno dopo l'altro degli annunci da parte delle grandi banche di lanci di servizi per offrire ad esempio Bitcoin Ethereum ed altre monete sono sicuro che tra un po' ce le ritroveremo alla posta alle poste italiane ci offriranno il pacchetto per comprare cripto non so magari tra un anno in più stiamo vedendo una crescita tecnologica della rete Ethereum quindi il tanto nominato AP1559 quindi l'Ethereum in improvement proposal che arriverà a luglio insieme all'upgrade di London potrebbe portare un cambiamento molto interessante tra l'altro voglio farvi vedere una cosa riguardo a questo perché questo è uno di quegli aspetti che conferma a quello che vi stavo dicendo di come sia cambiata anche la narrativa questo è il sole 24 ore una pagina del sole 24 ore del 6 maggio giovedì scorso oltre a una qui su questa pagina c'è un articolo con l'analisi sulla borsa e nella colonna laterale c'è un articolo dedicato a Bitcoin ed Ethereum più che altro incentrandosi sull'inflazione a firma di Vito Lops su questo articolo c'è stata una mia collaborazione infatti ho revisionato personalmente questo articolo e c'è una parte in cui viene citato di come Bitcoin sia sempre di più considerato un asset class importante contro l'inflazione e dall'aggiornamento che arriverà da luglio anche Ether potrebbe iniziare ad essere visto come un asset dall'inflazione attrattiva attraente perché andrà a diminuirla parecchio in quanto le commissioni che arriveranno andranno a bruciare Ether quindi ci sarà una parte che verrà rilasciata da ogni blocco e una parte quella delle commissioni che invece andrà a essere bruciata quindi se le commissioni saranno molto alte potenzialmente Ethereum potrebbe addirittura diventare in alcuni momenti deflativo ovvio che non sarà così però andrà a diminuire molto di più la sua inflazione inutile dirvi che per me è stata una soddisfazione molto molto importante molto grande quella di aver contribuito a un articolo che finalmente sul giornale di riferimento finanziario in Italia che finalmente parla di cripto parla di Bitcoin parla di Ethereum in modo un po' più approfondito un po' più serio invece di parlare Bitcoin crolla Bitcoin vola insomma c'è un'analisi un pochino più strutturata e questo mi dà molta molta soddisfazione proprio a certificare quello di cui vi parlavo qualche minuto fa che la narrativa è cambiata che praticamente anche i media si stanno approcciando in modo diverso e questo porterà delle conseguenze ancora più grandi su tutte le persone che finora non siano interessate e magari anche una reale adozione ricordo che lo scorso ciclo è finito per una mancata adozione e una speculazione pura praticamente chi aveva cripto stava solamente speculando non esisteva quasi nulla di utilizzabile è andato a finire tutto nello scoppio di una bolla momentanea in questa fase vedremo se le cose saranno diverse in base a come il tutto si andrà a sviluppare e anche a come reagirà il mondo tradizionale perché il mondo tradizionale non vive un momento rosio parlando di questo volevo farvi vedere anche il parallelo di capitalizzazione sui vari asset mondiali qui abbiamo la classifica c'è l'oro come sempre alla posizione numero 1 con 11 trillion di capitalizzazione poi Apple Saudi Aramco Microsoft Amazon Alphabet l'argento e Bitcoin queste posizioni sono abbastanza consolidate poi abbiamo Facebook Tencent più in basso Backshare Headway di Warren Buffett Tesla Alibaba eccetera ma guardate che salita che ha fatto Ethereum al momento posizione numero 19 a questo prezzo e a questa capitalizzazione supera delle aziende enormi come Walmart Mastercard Nvidia Bank of America Nestle Walt Disney queste sono tutte aziende che capitalizzano meno di Ethereum ovviamente Ethereum non è un'azienda ma giusto per capire l'impatto è quello che sta succedendo e soprattutto che Ethereum valga in questo momento 100 miliardi in più di Mastercard è un qualcosa di importante che non possiamo più ignorare noi magari non l'abbiamo mai ignorato ma non si può più ignorare neanche al di fuori di questa nicchia che per anni è stata definita tale che è quella delle crypto subito su un passo diciamo ormai solo 10 miliardi in più c'è JP Morgan Chase una delle più grandi banche del mondo e poi Samsung e Visa che non sono più così distanti il discorso però è serio perché effettivamente siamo entrando in una fase di euforia pura di speculazione pura in cui le cose rischiano di mettersi nuovamente male per l'intero settore stiamo praticamente esponendo i fianchi a attacchi e critiche alle volte anche giustificate si stanno mettendo soldi e tanti soldi in qualcosa quanto meno di poco approfondito qualcosa che magari nasce non so da un anno sì un anno magari da un mese da due mesi e non abbiamo la minima idea andiamo sull'euforia pura e cominciamo a buttare soldi in generale su cose presi dalla FOMO è pura FOMO quella che stiamo vivendo Shiba Inu come token ha generato la maggior parte dei volumi e delle commissioni sul nuovo Uniswap sull'Uniswap versione 3 di cui ho parlato in Rd a cui vi rimando tramite il link che trovate nelle schede l'utilizzo e lo scopo di questo token è alquanto dubbio nel senso parte come un ulteriore meme meme del meme perché dopo la salita di Dodge c'è praticamente la versione su Ethereum quindi tokenizzata di Dodge da capire la cosa io personalmente non l'ho ben capita ma vi faccio uno spoiler questo sarà uno degli approfondimenti dei video che farò della settimana dell'hype perché non posso non farlo 2.4 milioni di dollari e un numero di transazioni vicine alle 57.000 questi sono i numeri che ha fatto solamente dal lancio quindi solamente dal 5 maggio SHIB cioè dal lancio della versione 3 di Uniswap e la seconda è Ether USDT cioè la coppia più scambiata in assoluto su exchange decentralizzati che ha 750.000 dollari praticamente un valore di circa un terzo rispetto a quello di Shiba incredibile e ha generato come commissioni e ha generato come trades come scambi 8.500 incomparabile con i 57.000 del token appena citato è un fenomeno che si sta velocizzando e portando verso un punto che probabilmente prima o poi dovrà interrompersi bruscamente qualcuno lo aveva già predetto prima dell'intervento di Elon Musk al Saturday Night Live perché questo ultimo rialzo di Dogecoin che settimana scorsa era salito ancora una volta arrivando ai 70 centesimi di dollaro se non erro e qualcuno sognava già il dollaro proprio per sabato c'è stata tutta questa narrativa che portava a pensare che Elon avrebbe non so cosa detto durante il suo intervento facendo felici tutti quanti però la logica per cui Doge sarebbe dovuto arrivare a un dollaro solamente per questa ragione è una logica abbastanza debole non solo perché di solito queste cose vengono prezzate in anticipo questo oggi è facile dirlo per me è chiaro ma in realtà per chi mi conosce sa che l'ho detto già magari in privato già in anticipo ma in generale sapete come la penso e penso di averlo anticipato anche magari nell'ultima live questo discorso in ogni caso quando c'è un evento si dice sempre buy the rumors and sell the news compra il rumor e poi vendi prima che arrivi la notizia vendi la notizia e questa era già stata praticamente prezzata solamente che chi è andato a comprare doge chi sta comprando doge in modo massivo non è una platea educata finanzialmente educata diciamo che è arrivata una massa come vi dicevo in piena fomo che probabilmente ha anche fatto poco finora in cripto e cerca di perdere il terreno di recuperare il terreno perduto poi si sono unite anche una serie di persone che vedendo il fenomeno ha cercato di cavalcare l'onda e sta cercando di cavalcare l'onda ho visto traders adesso parlare di dodge andando anche a pensare che magari possa diventare un giorno qualcosa di legit che a questo punto vista l'adozione può diventare la moneta di internet ma chissà adesso questo non posso dirlo in ogni caso vedo sposare la cosa unicamente prevalentemente solamente perché il prezzo sale e ricorda molto ma veramente tanto 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 questo sono sicuro di averlo detto già nella live del mercoledì scorso quando c'era anche Daniele che a me ricorda tantissimo xrp ripple sta succedendo la stessa cosa di xrp nel 2017 quando io l'ho visto a pochi millesimi comprai anche qualcosa perché ero molto meno educato magari come chi ha iniziato quest'anno nel mondo gritto e poi arrivò addirittura a 3 dollari e 20 arrivò a 3 dollari e 20 fu il suo apice culminò praticamente tutta la fase di bull market tutta l'all season xrp iniziò a scaricare tornò addirittura a 14 centesimi in tanti ancora stanno aspettando di recuperare quello che hanno perso comprando a livelli superiori ai 2 dollari per singolo xrp non è detto che la cosa avvenga però il fenomeno lo ricorda molto io spero non avvenga perché quello fu anche il culmine di un certo ciclo lì arrivò praticamente la fine del grande ciclo del 2017 barra 2018 che finì per bitcoin prima poi partirono queste al coin dalla capitalizzazione bassa visto che era arrivata l'ondata di neofiti di retails e poi si scarica un po' tutto tra l'altro per chi avesse seguito l'intervento o chi non l'avesse seguito vi lascio magari il link c'è questo su twitter che fanno vedere questi 5 minuti di monologo di Elon Musk tra l'altro cerca di fare una specie di commedia cioè è molto molto simpatico nel suo intervento e l'unico momento in cui nomina dodge è nella parte finale in cui praticamente c'è la madre e c'è una battuta che la madre fa dove dice non vedo l'ora di vedere il regalo per il giorno della mamma spero solo non sia dodge e Elon Musk in modo appositamente un po' goffo fa sì sì è dodge questo è l'unico momento in cui Elon Musk nomina dodge nel tanto atteso programma e effettivamente dopo il prezzo già dal giorno dopo inizia a crollare ma questa volta veramente perché nel giornale ieri fa anche un meno 36% in poche ore e poi si riprende un po' perché arriva un'altra notizia che non ho ben inquadrata ancora dove sembrerebbe che una operazione una missione spaziale di SpaceX sarà in qualche modo supportata proprio da fondi in dodge non ho ancora capito che cosa vuol dire questa cosa tra l'altro non è specificata perché non si capisce se i costi verranno appunto se dodge verrà utilizzata per pagare dei cost dei costi di sviluppo oppure qualche fondo verrà fisicamente inviato sulla luna non si è capita bene questa cosa questo spiega anche perché Elon Musk in qualche tweet passato disse che dodge andrà letteralmente sulla luna insomma è bastato anche solo questo per far riprendere un attimo dal crollo che stava arrivando la moneta con lo Shiba Inu che al momento rispetto a un giorno fa ci fa vedere più 12 più 14 proprio perché c'era stato questo crollo lo vediamo qui nel grafico da un valore di 65 centesimi era sceso in poco tempo a 43 centesimi poi appunto arriva quella notizia lì un po' si riprende adesso è un po' stabile un po' confondendo diciamo tutti gli investitori che non sanno adesso come comportarsi se è il momento di scaricare se è il momento di accumulare di attendere non capiscono bene stanno aspettando che qualcuno gli dica cosa fare e questa è una cosa molto molto pericolosa soprattutto perché qui parliamo di speculazione pura tornando un attimo su Ethereum l'aumentare delle gas fee del gas weight come vediamo ha riportato in auge comunque le soluzioni di scalabilità e Matic continua la sua corsa raggiungendo nella serata di ieri addirittura il dollaro poi il dollaro ha portato una resistenza anche psicologica al prezzo in ogni caso Polygon la rete Polygon e la moneta Matic vale più di 90 centesimi di dollaro dopo una crescita mostruosa dell'ultimo periodo questo anche perché se andiamo a vedere delle analisi on chain vi ho parlato già dell'aspetto tecnico e di cos'è Polygon e Matic vi rilascio il video specifico ma se andiamo a vedere aspetti on chain Matic come token è praticamente sparito dagli exchange a inizio gennaio 2021 c'erano 1 miliardo e 240 milioni di Matic adesso in 4 mesi ne troviamo solamente 88 milioni praticamente sono stati prosciugati dagli exchange anche perché non conviene averne su exchange centralizzati a non far nulla questo è uno di quei token che viene utilizzato per soluzioni di scalabilità il boom c'è stato dopo che protocolli come Aave e Sushi hanno iniziato a supportare la rete e si sono mossi sulla rete Polygon quando vi ho fatto vedere di come la capitalizzazione e i volumi stavano aumentando su Aave ad esempio qui sono appunto su rete Polygon eravamo a 2 miliardi se non sbaglio adesso il capitale bloccato il capitale bloccato sul protocollo ha raggiunto addirittura i 3.3 miliardi quindi una continua crescita guardate i numeri come stanno salendo il problema infatti poteva essere solo presentato dalla liquidità su questa rete di layer superiore in realtà è una rete al momento quasi side chain quindi è una rete che va ad aiutare Ethereum in parallelo che ha efficienza e costi molto diminuiti vi rimando al video per approfondire e sta crescendo sempre di più le percentuali sono interessanti perché ad esempio sul deposito si ha il 2.33% più il 5.99% in Matic direttamente su Aave parliamo di un 8% all'anno non conviene detenere a morire la moneta su un exchange ma conviene magari farla lavorare un'altra di quelle notizie che veramente mi ha preso anche di sorpresa questa volta questa non la sapevo neanche in anticipo è stata di quelle importanti è stata questa partnership tra Crypto.com e la serie di calcio italiana sapete che da un po' di tempo che seguiamo anche il calcio qui su Coinsquare perché noi di Coinsquare perché il lunedì sera quindi anche stasera alle 21.30 parliamo di calcio e Sorare tramite NFT insomma ci stiamo divertendo un po' passiamo un po' di tempo parlando anche di calcio e questa è una di quelle notizie che veramente fa scalpore innanzitutto la finale di Coppa Italia sarà proprio sponsorizzata in partnership da Crypto.com che andrà a creare anche degli NFT unici per l'evento in più proprio la serie A fa un accordo con Crypto.com ed è la prima il primo partner Crypto di questo mondo anche rileggendolo ora mi fa impressione perché è un qualcosa che solo uno due anni fa se avessi immaginato un po' come vi ho fatto a inizio video a inizio video vi ho detto immagino che tra un po' le poste italiane offriranno dei servizi Crypto ecco questo mi stupirebbe meno che questa notizia qui che invece è già realtà dove una azienda che ho visto nascere tramite ICO perché ho seguito proprio l'ICO sempre per tornare alla storia tutte le ICO sono state truffe beh non direi tutte ecco un'azienda diventata talmente grande talmente internazionale ormai da diventare partner ufficiale come unico come unica azienda Crypto di una cosa grande come la serie A di calcio italiana perché grande perché anche se non ci piace il calcio questo è un business che muove miliardi e penso questo lo sappiamo tutti quanti magari è anche l'aspetto più criticato del settore ma in ogni caso è uno dei business più importanti dell'intero paese Italia come dicevo sempre in un tweet adesso se qualcuno ancora ha dubbi sulle ambizioni di Crypto.com vorrei un attimo capire il perché passando invece a un aspetto tecnico sempre legato a Crypto.com questo è quello che ci dovrebbe interessare hanno svelato la funzionalità ma me lo aspettavo di supporto per un Ethereum Virtual Machine sulla loro blockchain come sappiamo hanno lanciato da poco la mainnet per Crypto.org fatto anche qui un video e i token che una volta erano token IRC20 adesso sono monete di quella blockchain però attenzione siccome il protocollo è sviluppato su Tendermint l'idea è sempre stata quella di essere compatibile con la blockchain con altre blockchain e con la blockchain in particolare di Ethereum quindi adesso è stata svelata l'Ethereum Virtual Machine ma era una cosa che mi aspettavo questo sì adesso è ufficiale che cosa vuol dire ve lo semplifico praticamente pensiamo alla Binance Smart Chain dove Binance che cosa ha fatto ha creato una rete una catena copia di Ethereum cosicché avendo una compatibilità di esecuzione l'Ethereum Virtual Machine è come se fosse una macchina virtuale è una macchina virtuale dove poter far eseguire delle applicazioni le applicazioni decentralizzate che conosciamo come ad esempio Uniswap vengono eseguite in questo modo ed hanno degli smart contract dei programmi che vengono scritti essendo compatibile con questa macchina virtuale gli stessi smart contract possono essere eseguiti su un'altra blockchain allo stesso modo senza cambiare il codice un po' come ha fatto appunto Binance con PancakeSwap copia del codice di Uniswap portato sulla Binance Smart Chain la stessa cosa così come per tanti altri protocolli vediamo Venus che è come Maker e tanti altri ecco questo avverrà anche sulla Crypto.org Chain perché è Ethereum Virtual Machine compatibile porterà efficienza scalabilità su una blockchain diciamo che a questo punto io definirei quando fanno queste cose qui una sorta di sidechain praticamente è riportare la stessa struttura di Ethereum su una cosa più efficiente e magari anche un'interoperabilità questo sicuramente perché Ethereum è leader del settore settore affermato ogni cosa viene sviluppata lì ogni azienda che deve fare una startup che deve fare un protocollo un'applicazione decentralizzata la fa lì poi se funziona viene presa copiata e riportata magari anche su queste tipologie compatibili questa verrà anche sulla blockchain di Crypto.org cosa che ovviamente seguirò ma intanto volevo introdurvi notizia importante della settimana scorsa è stata anche il rumor questo sì di un interessamento di eBay alle Crypto questa volta sembrerebbe più concreto già tre anni fa si parlava si vociferava di come eBay avrebbe potuto inserire i pagamenti in Bitcoin poi non era cosa anche perché era finito il ciclo e l'interesse stava diminuendo in questo momento l'interesse è molto alto e non solo si parla di Crypto ma si parla anche di aste in NFT il CEO dice una delle cose più interessanti di eBay è che quando c'è un nuovo trend questo appare sulla piattaforma ricordo benissimo quando ero più piccolo le aste fatte e l'obbligo praticamente di avere l'account PayPal praticamente iniziai con PayPal proprio perché volevo vendere e comprare su eBay se dovesse iniziare una cosa del genere magari dovessero introdurre pagamenti in crypto immaginate quante persone milioni di persone farebbero i primi wallet solamente per andare ad operare in questo modo soprattutto visto il trend degli NFT e magari potrebbero creare sia operazioni legate ad oggetti da collezione ma magari anche aste non so cosa vorranno fare poi probabilmente è una cosa che vedremo visto che è la settimana dell'hype ricordo quello che è stato l'annuncio durante appunto la live di mercoledì scorso legata proprio al mondo NFT non solo NFT in realtà perché quello che abbiamo lanciato sia iPart è un servizio che diventerà una galleria d'arte digitale che sia NFT poi quello è un aspetto tecnico e andrà oltre alla magari moda passeggera degli NFT l'arte digitale è qui e rimarrà gli oggetti unici in formato digitale rimarranno per questo servono comunque delle piattaforme e dei servizi che diano anche un'esperienza migliore a tutto quanto ne ho parlato mercoledì appunto insieme a Daniele questa è stata l'idea che abbiamo lanciato e la sfida che appunto adesso stiamo portando avanti il progetto si chiama Hype Art per rimanere aggiornati vi lascio il link ufficiale per gli annunci di Telegram che troverete in descrizione lì annunceremo le prime aste i primi annunci e soprattutto anche i primi airdrop perché ci saranno una serie di airdrop per ogni nuova proposta che arriverà sulla piattaforma per rimanere sempre sintonizzati vi consiglio di seguire lascio il link appunto di Telegram in descrizione siamo entrati nel terzo ciclo di snapshot per Mayer e per i token MEX ho seguito tutta la cosa dicendovi che appunto sta arrivando un exchange decentralizzato su protocollo Elrond i gold e quando questo sarà attivo in realtà appunto verso metà maggio quindi dovremmo esserci ci sarà anche la possibilità di fare il claim dei suoi token di governance ho spiegato tutto già come vedere adesso quanti MEX ci spettano è già possibile lo hanno abilitato è veramente facilissimo andando su mayer.exchange è stata abilitata anche la fase di connessione questo era disabilitato fino a qualche giorno fa ci si può connettere con il ledger quindi hardware wallet web wallet oppure tramite applicazione mayer quello che vi potrei consigliare intanto per andare tanto adesso ancora non si possono fare i scambi perché l'exchange non è stato ancora lanciato qui sarà possibile poi scambiare i vari token dell'ecosistema Errand un po' come avviene su uniswap e come su uniswap dove è arrivato il token di governance uni arriverà a MEX verrà distribuito in base a questi snapshot a queste fotografie dovete inserire il vostro indirizzo dove state detenendo i vostri i gold magari in staking oppure lì semplicemente nel wallet inserendolo qui dentro e qui potete vedere quanti ve ne spettano questo è quello che vi facevo vedere io nel video in cui vi presentavo mayer quindi al mio indirizzo di mayer quello con l'hashtag et tiziano quindi chiocciola tiziano basta inserire l'indirizzo e ci fa vedere quanti MEX ci spettano in base ai gold che abbiamo all'interno qui ci fa vedere la prima settimana ci sono i bonus io non ho niente solo semplicemente fermo nel wallet che darebbe un 1x di bonus ho tutti i gold messi o in staking o in staking delegato quindi bonus dell'1.25 o 1.5 insomma viene tutto calcolato in modo automatico noi non è che dobbiamo fare niente la cosa che vi dicevo è che il modo per ottenere di più è sicuramente avere nei staking perché ci dà l'1.5x e questi sono i MEX che al momento mi spettano se dovessi fare il claim oggi ogni snapshot ogni settimana aggiungerà nuovi questa era la week 1 week 2 già ne ho accumulati altri poi vedremo nella week 3 quanti me ne spetteranno andanno a diminuire nel tempo come vi spiegavo prima lo si faceva meglio era quindi basta inserire tutti i vostri indirizzi qui dentro e vedete quanti ve ne spettano e tra un po' verrà annunciato sui social ufficiali quando sarà possibile fare il claim per approfondire c'è questa documentazione a cui vi rimando e che metto in descrizione dentro l'indice come funziona la distribuzione quelli che sono i numeri tutte le informazioni che potreste chiedermi e che io per rispondere dovrei copiare ed incollare quindi gli americani dicono non fatemi fare il let me google it for you l'ultima informazione è quella di servizio questa settimana la live sarà una ask me anything con Filippo Angeloni mercoledì 12 maggio ore 18 italiane quindi insieme a Filippo andremo a rispondere a tutte le domande legate a mercato e cripto ci vediamo mercoledì per quanto riguarda invece il criptomanday ci vediamo lunedì prossimo ma attenzione perché come vi dicevo questa sarà l'hype week quindi andrò a farvi delle analisi su tre video differenti tre progetti in hype spiegandovi quello che sta succedendo facendoci così un'idea dei benefici che potremmo avere ma soprattutto dei rischi che stiamo correndo non sapendo determinate cose non voglio mettere dell'allarmismo ma voglio condividere della conoscenza e già vi dico che due di tre due su tre saranno progetti che secondo me hanno un rapporto rischio beneficio non non buono non valido e uno invece magari è un po' più interessante e potremo anche rivalutarlo seguitemi durante questa settimana per sapere di cosa sto parlando ciao a tutti